Luce e ombre del sistema sanitario italiano, sottoposte agli esperti nel convegno rassegna Sanit a Roma. Elisabetta Novel. È un'Italia che cammina a due velocità, con punte avanzate e ritardi inammissibili, quella fotografata dal SIC Sanità in Cifre, un rapporto completo sulle spese sanitarie presentato alla nuova fiera di Roma in occasione del Sanit. Il SIC Sanit mostra convegno su mezzi e servizi per la salute. Nell'ultimo anno le spese a carico del Servizio Nazionale sono aumentate di oltre il 50%. 660 milioni di euro sono stati spesi per i ricoveri dei cittadini stranieri, ma per l'assistenza degli anziani non autosufficienti si spendono solo 38 euro l'anno. Aumentano invece le spese per i ricoveri in ospedale dai 610 euro pro capite del 2000 ai 656 attuali e aumentano anche le visite specialistiche con un incremento economico del 175% in 10 anni. Leggermente in calo invece il personale, meno 1,1%, ma non gli oneri a carico dello Stato che spende per medici, tecnici e infermieri più di 30 miliardi l'anno.